Maresciallo mi hai fatto chiamare? Ah, sì, 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 vieni, vieni, vieni. Allora, un appello a tutti i milanesi. Dal 20 al 25 marzo a Milano non c'è niente da fare, solo una cosa. Andare al Teatro Zambabile e vedere Minchia Signor Tenente. Uno spettacolo divertentissimo. E non solo ve lo aspettavo, perché ci sta un grande personaggio, si chiama il Maresciallo Antonino Chitirchi, che sono io ovviamente. Interpretato da Antonello Pasquale, che sono sempre io. Voi mi raccomando, io vi aspetto, eh. E dovete entrare tutti sugli attenti. Voi, non vi scordate. Andate, andate.